Eccoci tornati ancora in diretta sulle frequenze di RTM per questo appuntamento con Free Music, ormai lo sapete, è un momento consueto quello dedicato alle interviste e oggi sono particolarmente fiero di intervistare un artista di casa nostra, un giovanissimo conterraneo che si sta facendo bene valere e lo vorrei definire l'artista del momento sicuramente è così, è un'esclusiva di RTM, signore e signori, ecco a voi Roccuzzo, ciao, buon pomeriggio Ciao, grazie, grazie per le bellissime parole Ciao, ciao caro, ben trovato, come stai, tutto bene? Tutto bene, tutto bene, questa settimana super piena, però sì, tutto bene E beh, vorrei vedere, credo che le giornate siano diventate più movimentate del solito, no? Eh sì, 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 super movimentate Bene, bene, siamo davvero contenti per te, dicevo conterraneo perché tu sei originario qui, di Giarratana Esatto, sì, sono di Giarratana E quindi siamo ancora più lieti di averti e quindi di poter parlare con te e quindi con gli ascoltatori di RTM Allora, Roccuzzo, a me nelle interviste mi piace sempre iniziare dal passato, quindi dall'inizio Ok Come e quando ti sei avvicinato al mondo della musica? Allora, diciamo che in realtà non mi ci sono mai avvicinato perché c'è stato sempre, in generale Cioè la mamma suonava e cantava i matrimoni, papà suona la chitarra elettrica E quindi scorre nel sangue la musica Sì, 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 è stata sempre una parte fondamentale di noi, di tutta la famiglia Bene, quindi da questi spunti anche tu non ti sei tirato indietro e quindi ti sei cimentato anche tu nel mondo della musica Quando hai cominciato a scrivere, a comporre delle tue produzioni? Allora, diciamo che ho sempre scritto fin da piccolo poesie, mi piaceva scrivere in generale Poi verso i 15 anni, 14-15 anni, lì mi sono avvicinato proprio alla musica musica Cioè ho iniziato proprio a tirar fuori delle melodie e a registrare le mie prime cose Bene, quindi comunque è un qualcosa che è nato sin da piccolo e quindi ricordiamo tu sei giovanissimo Hai 24 anni, quindi hai davvero una lunghissima strada davanti a te E quindi pian pianino, tassello dopo tassello sei approdato a questa importante piattaforma musicale Che tutti i giovani ambiscono ovviamente, X Factor Ecco, fammi capire come funziona, come è avvenuto questo contatto con X Factor Allora, praticamente era il periodo della quarantena E io su Instagram ho visto una foto dove dicevano iscriviti quest'anno X Factor e bla 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 Io ho detto ma così così mi ci scrivo Però ho detto non lo so se mi considereranno perché c'erano davvero tante persone che si erano iscritte Non credo che capita tutti i giorni di accedere a X Factor perché chissà quanti giovani, quante iscrizioni, quanti vorrebbero salire su quel palco Eh sì, devo dire la verità, eravamo tantissimi, soprattutto alle audizioni ne hanno davvero tagliati tantissimi Quindi capisco che veramente era un onore essere su quel palco e avere quella vetrina Ebbè, credo che non te lo saresti mai aspettato di trovarti davanti a dei giudici come Emma, come Mika Insomma, credo che non capita tutti i giorni No, 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 assolutamente Bene, e quindi c'è stato questo tuo momento di gloria a X Factor Ti sei esibito con la canzone di Elisa Promettimi E da lì il famoso pianto di Emma che si è commossa dinanzi questa tua interpretazione Ecco, descrivi quel momento Allora, lì è stato davvero bellissimo perché cioè nel senso io mi immaginavo in un certo senso come poteva essere lì in quel momento Però non ho mai, non sono mai arrivato realmente a percepirlo come l'ho percepito lì Cioè è stato più bello della mia aspettativa, è stato qualcosa che mi porterò sempre Ebbè, questa tua esibizione è stata davvero straordinaria È tra le più visualizzate del momento Io l'ho vista più volte e devo dire che l'emozione scatta, è automatica Quindi davvero sei qualcosa di straordinario, un prodigio davvero che certamente farà tanta strada Però poi, cos'è successo dopo? C'è stato questo momento di esaltazione e poi la stessa Emma, cosa gli è scattato in mente? Devo dire la verità, è stata, diciamo che la parte finale è stata una parte molto difficile Perché da un lato pensavo di riuscire a conquistarmi il posto per i live Lo eravamo convinto un po' tutti, ecco Eh sì, però dall'altro avevo paura che appunto la mia vulnerabilità non giocasse un bel ruolo Devo dire la verità, ovviamente rispetto assolutamente le scelte di Emma Perché comunque lei sicuramente avrà una visione per i tre ragazzi che si è portata E vuol dire che io non ero in quella visione Peccato però, devo dire la verità, peccato perché tutti quanti ormai eravamo convinti Che questo passo sarebbe avvenuto Però poi c'è stato questo cambiamento, questo cambiamento è provvisto Però come hai detto tu, questa non è una sconfitta Infatti facendo un po' un riferimento al tuo singolo Ricominci da qui Esatto, assolutamente Assolutamente sì, quel no comunque sia Mi è servito assolutamente per andare avanti ancora di più Nel senso adesso che ho avuto anche un impatto con il grande pubblico Io ho visto che la gente vuole realmente emozionarsi Adesso voglio andare ancora di più a fondo su tutto il mio percorso Quindi questo qui è solo l'inizio Ma sicuramente, ovviamente è solo l'inizio di una lunga carriera davanti a te E quindi ricominciamo da qui Parliamo di questo brano Com'è nato e quale è il messaggio che vuoi trasferire a chi lo ascolta? Allora, questo brano è nato circa un annetto fa Mi piaceva tantissimo la melodia che avevo nella mia testa Che appunto come se lo avete ascoltato è una melodia molto pop Molto fresca E quindi volevo trasmettere un messaggio d'amore A me è sempre piaciuto come la fotografia Ti faccia ricordare dei momenti che hai passato tanto tempo fa E io volevo farlo con la musica E a tutti è capitato di avere delle storie d'amore che sono andate male E quindi volevo far ricordare i bei momenti Bene, questa è una canzone Che è un brano che comunque ti rappresenta in un certo qual modo, giusto? Sì, sì, assolutamente Sì, sì, sì Cosa vuoi consigliare ai giovani come te Che vogliono approcciarsi al mondo della musica? Allora, io devo dire che Di essere sempre se stessi Perché molte volte uno Pensa di costruire un personaggio Per piacere agli altri Ma in realtà La cosa che può apprezzare di più un'altra persona È la sincerità e la verità Quindi io il consiglio che posso dare è di essere sempre sinceri, umili E approcciarsi alla musica con amore totale Belle parole queste che hai voluto condividere con i nostri ascoltatori Ed è che proprio da queste parole noi dobbiamo ricominciare E quindi ricominciamo da qui Sempre riferendoci al tuo brano E tu adesso dove ti trovi? Come funziona adesso il tuo proseguio musicale e professionale? Allora, io adesso mi trovo a Luino In provincia di Varese Al nord Italia Io continuo sempre con la musica E sto scrivendo tantissime cose Insieme al mio team di produzione Non vi nego che ci saranno tante cose che usciranno E noi le aspettiamo Molto, molto interessanti Grazie Noi le aspettiamo per poterle diffondere attraverso la nostra radio La RTM Quindi spero che quando questo macello si concluderà Possiamo averti qui a Modica Che conoscerai bene sicuramente Sì, assolutamente Sì, sì, io ho fatto anche la scuola lì a Modica Dove sei stato a scuola a Modica? All'alberghiero È bene, è bene, è bene Quindi sì, praticamente ho passato tutti i miei pomeriggi lì Bene, bene Quindi sei un modicano d'adozione ecco Per quanto riguarda gli studi Sì, 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 assolutamente Poi la amo proprio in generale Modica Bene, ma anche Giaratano è un bellissimo paesino Io vado spesso per motivi di lavoro Devo dire che è una città molto tranquilla Bella, bella, raccolta Insomma, vi conoscete tutti a Giaratano Ecco, un paesino piccolino Sì, sì, anche lì c'è una bellissima area di famiglia Bene, allora Ti auguriamo di respirare nuovamente questa area di famiglia Ma soprattutto ti auguriamo tanti, tanti successi Grazie Già X Factor, devo dire che è stata una importantissima vetrina Che ti ha lanciata ancora di più E quindi noi aspettiamo tanti singoli, tanti brani Che speriamo di presentare nuovamente qui con te E quindi l'augurio di ritrovarci presto, Rocuzzo Grazie mille, grazie per le bellissime parole, davvero Un abbraccio a te, stami bene Un abbraccio a voi Un bocca al lupo per tutto E grazie per aver accettato questo nostro invito Grazie a voi, vive il lupo Un abbraccio Rocuzzo qui su RTM Free Music Ciao caro e alla prossima Ciao Ciao, ciao Ciao, ciao, ciao